Con Gloria Domini, allora qui al Miss Ex, intanto presentiamoci un po', buongiorno. Buongiorno a te. Dimmi un po' qualcosa di te in questo momento e innanzitutto da quanto fai la formostata? Io ho cominciato a sottendere un paio di tentativi per capire se posso far parte di questo mondo, mi è piaciuto, ho richiesto la possibilità di continuare ad un livello superiore e grazie all'agio media ho avuto la possibilità di lavorare anche con uomini del quale non ha Mard conosciuti come Franco Trenza Lance o Omar Galanti, per cui diciamo che nel mio obiettivo mi sto avvicinando sempre di più. Senti, lo so che non è molto educato, ma si può chiedere quanti anni hai? 26. 26, quindi sei ancora giovanissima. Ecco, una ragazza, prima abbiamo parlato e ti ho chiesto cosa deve fare adesso una ragazza per entrare nel mondo dell'hard. Allora, adesso sicuramente le cose stanno cambiando, non possiamo più dire che funziona come dieci anni fa, conoscevi schicchi e venivi catapultata in questo mondo. Adesso la cosa migliore è, grazie ai social network che ci vengono messi a disposizione, contattare direttamente i registi. Vale a dire, tu sai quale casa di produzione conferisci, che film vorresti fare, e a quel punto vai in base al film a vedere che registi l'ha fatto e cerchi di contattare direttamente il registi. Sicuramente sono sempre disponibili con le belle ragazze, sempre contenti di... Ecco, tu la fai un po' facile, però tu dici, contattati i registi, immagina di essere una ragazza che, non so, a 20, 21 anni non sa dove sbattere la testa, rischia magari di essere coinvolta in qualche gioco strano, in qualche giro di cose che non vanno troppo bene, non sono troppo facili. Ecco, come e dove e a chi rivolgersi? Sicuramente ai registi conosciuti e non con le inserzioni su internet, se ne trovano tantissime cercasi ragazze per produzione hard, mai rispondere a quelle inserzioni. Contattate nel caso della Geomedia, potete contattare tranquillamente Omar Galanti, piuttosto che Franco Trenta Lanci, piuttosto che Leonardo Conti, o addirittura contattate la Geomedia, che vi metterà in comunicazione con i registi stessi, dicendo quali registi lavorano per... Quindi sostanzialmente andare sul sito internet, più o meno. Anche sì. Io consiglierei addirittura proprio social network, perché è il miglior modo per farsi conoscere, grazie alla possibilità di mettere le fotografie, il polvesimo, come è spesso, ormai tutti noi lo utilizziamo, quindi siamo esperti su... Senti, l'ultima domanda per chiudere, anzi tre domande in una. Il nome del tuo ultimo film, il nome del tuo prossimo film, e se si può chiedere qual è la posizione che preferisci? Certo, allora il mio film è che sarà in uscita fra 3-4 giorni al massimo, quindi la prima settimana di marzo, i viti della notte, dove ci troverete, oltre che me, anche Alice Ricci, come attori maschili, Leonardo Conti e Omar Galanti. Invece il film, prossimamente, prima dell'estate, in trappola, molto bello, perché ha, diciamo, anche un po' di suspense, film in cui ha partecipato anche Franco Trenza Lange, la mia posizione preferita? Il Piazza Stare Sopra. Wow, va bene, tante grazie Gloria, sei stata grandissima, grazie! A prossima!